15 anni fa moriva Domenico Modugno, lo vogliamo ricordare in chiusura grazie a Donatella Pandimiglio, al maestro Luca Iacovella. Donatella, è impossibile definire in poche parole Domenico Modugno? Hai detto bene, è impossibile. L'unica cosa da dire è forse che è stato il più grande del secolo scorso, grande cantante, grande cantautore, grande attore anche di teatro e di cinema, solo per il teatro possiamo ricordare Streller con l'opera da tre soldi, il Sirano, il Rinaldo Incanto... Cantando, cantando... La sua più grande canzone, Vecchio Frac. Allora, il TG2 torna alle 13, punto it, lunedì, Donatella Pandimiglio. E' giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. S'avvicina lentamente con un cedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Bonnui, 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 buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La 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 la, la 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 la, chi mai sarà? Quell'uomo in frac.